15 milioni di euro per acquistare appartamenti già pronti, vuoti e invenduti da tempo da destinare a edilizia residenziale pubblica. Le ha stanziati la Regione Toscana per rispondere all'emergenza abitativa e affiancare così la costruzione ex novo di nuovi immobili. La misura è stata illustrata nella sede della Presidenza regionale di Palazzo Strozzi Sacrati. Alle risorse potranno attingere i comuni con almeno 20 domande di assegnazione di alloggio popolare in evasa in graduatoria e gli edifici proposti per l'acquisto dovranno essere liberi, conformi sul piano urbanistico e di classe energetica non inferiore a B. La Toscana tra 2017 e 2019 ha destinato 106 milioni di euro all'edilizia residenziale pubblica e ha emanato una nuova legge per snellire il sistema e renderlo più equo. Tra 2015 e 2018 la Regione ha stanziato 18 milioni e mezzo per il contributo affitti e 6 milioni e mezzo per i morosi incolpevoli riducendo gli sfratti. Grazie a tutti.